Per l'indebita percezione di fondi pubblici nell'ambito della ricostruzione aquilana e false attestazioni, la Procura della Repubblica dell'Aquila ha disposto tre sequestri preventivi per una somma complessiva di 721.000 euro circa. Le indagini hanno riguardato tre distinti procedimenti riguardanti l'indebita percezione di erogazioni pubbliche richieste nell'ambito della ricostruzione aquilana. I fatti di reato sono stati contestati ai beneficiari dell'indennizzo, nonché in alcuni casi anche a dei tecnici che hanno redatto i progetti a corredo delle domande, ritenuti così consapevoli delle false attestazioni. Si tratta dei primi esiti di un'attività di indagine, avviata con il Procuratore Cardella, dalle sezioni di Polizia Giudiziaria del Corpo Forestale dello Stato e del Nucleo della Guardia di Finanza, insieme con la Polizia Municipale. Le indagini possono considerarsi un progetto pilota, poiché è stato dato valore ad alcuni dati incrociati tra loro, desunti attraverso l'interrogazione delle banche dati create dai vari uffici che operano sul territorio, come quella creata negli uffici specializzati del Comune dell'Aquila e negli uffici dei Vigili del Fuoco. Questi dati hanno permesso un monitoraggio sicuro del denaro erogato. Sono emersi da questi dati contraddittorietà nelle dichiarazioni rese dai cittadini in occasione delle richieste di indennizzo avanzate a vario titolo nei confronti del Comune, per i beni mobili danneggiati, per il CAS, per la riparazione degli immobili, per la richiesta di recupero dei beni. Ad una prima lettura questi dati apparivano sintomatici di falsità e di conseguenza un'inesistenza del diritto a beneficiare delle monumento richiesto.